Il bosco Caracciolo de Simone Una breve scalinata in cotto porta verso la zona interna del bosco. Attualmente la scalinata è quasi invisibile, poiché è ricoperta da una folta vegetazione. Attualmente il bosco si trova allo stato naturale, privo di manutenzione, in pratica quasi totalmente abbandonato. Esso è oggi di proprietà della comunità montana-vestina che, in passato, ha cercato il suo recupero e la sua valorizzazione, ma tutto è rimasto sulla carta per mancanza di fondi. La sezione di penne Italia Nostra si fa promotrice, in accordo con la comunità montana-vestina e con l'amministrazione comunale, di un progetto finalizzato da un completo recupero e dalla fruizione pubblica del bosco. Il progetto dovrà prevedere la bonifica di tutta l'area boschiva e il ripristino degli antichi sentieri verso le riuscite già esistenti e chiuse da tempo immemorabile da cancellate in ferro. Esse permetteranno di arrivare a piedi in pochi minuti, quasi alla sommità di colle del duomo, partendo dalla porta principale d'ingresso che, come stato già detto, si apre lungo la circonvallazione. Occorrerà individuare, inoltre, aree da attrezzare con panchine ed aree per ospitare eventi quali concerti, dibattiti ed altro. Grazie per la visione!